Senatore Johnny Crozio, la Lega Nord ha abbandonato i lavori in Commissione Ambiente al Senato. Perché? Sono ormai settimane che il Governo prende in giro non solo la Commissione ma anche gli italiani o meglio i terremotati. C'è questo decreto ambientale urgente che deriva ancora dal Governo Monti, eterogeneo nel suo impianto, per cui non va affatto bene perché basti pensare che all'interno delle emergenze per quanto riguarda il terremoto dell'Aquila e dell'Emilia Romagna hanno inserito anche i rifiuti di Napoli. Vabbè, questo la dice lunga. Ma al netto di questo il Governo deve avere la forza, la volontà di venire in Commissione a dire che non ci sono i soldi per soddisfare i cittadini e i terremotati. Non lo sta facendo. Abbiamo fatto numerosi emendamenti, non solo noi ma tutti i membri della Commissione, chiedendo le risposte che cercano i cittadini al Governo tergiversa, rimpallando tra una Commissione e l'altra. Questo ha creato le condizioni affinché la Lega non potesse più stare in Commissione a essere compartecipi di questo teatrino che non fa bene al Parlamento ma in modo particolare non fa bene agli italiani.